buona giornata amici di fano tv oggi è venerdì 23 dicembre 2022 e questa è la rassegna stampa con la quale iniziamo insieme la giornata quindi ben svegliati e su in alto per cominciare questa bella giornata c'è un po di nebbia fuori dopo ne parleremo con le previsioni del tempo ma la giornata non sarà piovosa quindi una giornata in cui si potranno fare le ultime compere natalizie ma noi intanto procediamo con l'almanacco del giorno per vedere chi è il santo il santo di oggi e vediamo nella grafica che è san giovanni da cheti cheti è nella diocesi di cracovia san giovanni visse nel 14esimo secolo fu laureato si laureò in filosofia e teologia all'università della sua città e poi si fece sacerdote e si distinse per la sua pietà verso i poveri si dedicò all'insegnamento andò in pellegrinaggio in terra santa e più volte andò anche in visita alle tombe degli apostoli a Roma comunque fu un uomo pio un uomo molto molto caritatevole che si distinse appunto per la sua santità e vediamo le previsioni del tempo vediamo la grafica che ci propone oggi la nostra trasmissione e vediamo che ci sarà un cielo nuvoloso con nubi basse e nebbie in Valpadana ma ovviamente anche nella nostra regione ci saranno le temperature in rialzo non è freddo anzi le temperature sono superiori alla media e queste si aggireranno tra i 3 e i 18 gradi addirittura il 3 per quanto riguarda la minima la massima invece è molto molto alta non è tipica dell'inverno il cielo dicevo scusate la voce il cielo è nuvoloso ma ci saranno anche ampi e schiarite quando la nebbia si alzerà ci ho detto apriamo il giornale a partire oggi dallo sport vediamo il calcio visse in paglio c'è di tutto orgoglio derby e salvezza dopo tante delusioni oggi è il momento di ritrovare la speranza il duello interno con la re canatese oggi alle 14 e 30 vedrà il recupero di astrologo e a uccelli non ci sarà accusumano brevi il tecnico della vis dice abbiamo le qualità tecniche per dire la nostra l'alma invece pensa al mercato in partenza sono bamba e mancini il presidente russo chi gioca poco o non si sente parte del progetto può chiedere di andarsene senza mezzi termini la società ora si affaccia sul mercato la sconfitta casalinga patita contro il notaresco che veleggia nelle ultime sedi della classifica ha mortificato un po' gli entusiasmi in tutto l'ambiente granata i tifosi ci sono rimasti davvero male per questa battuta d'arresto imprevista che è andata ad aggiungersi a quella di domenica scorsa a Chieti i rappresentanti dei Panthers addirittura non si sono fermati a mangiare insieme ai loro giocatori ai loro beniamidi in una cena natalizia e quindi tiraria un po' di maretta all'interno della visse vediamo anche altre notizie Pesaro capitale marchigiana del calcio a 5 in 4 giorni tutte le finali di Coppa regionale per ogni categoria in programma 14 partite vediamo anche l'Urbino il quale saluta la Coppa è festa Valdichienti al Bianchelli di Senigallia Minella spegni i sogni i dei ducali sul rigore contestatissimo proteste anche nel finale della gala Real Altofoglia che colpo arriva Lorenzo Sacchi si parla del mercato dei dilettanti nuova casacca per l'attaccante classe 90 questa è un po' la sintesi delle notizie di sport pubblicate oggi dal resto del Carlino ma vediamo ora le pagine di cronaca abbiamo il giornale su quella di Fano abbiamo una notizia che riguarda il Carnevale una notizia un po' già risaputa Carnevale va in orbita e punta sugli astronauti sarà dedicato all'italiana Samantha Cristoforetti il tradizionale pupo che verrà dato alle fiamme nel martedì grasso in salsa panese e mettere Samantha Cristoforetti a rogo insomma è un po' una cosa diciamo così particolare comunque c'è una collaborazione avviata con l'Agenzia Spaziale Italiana infatti arriverà anche l'astronauta Nespoli sarà in carne ed ossa con le maschere del Carnevale di Fano e quindi sarà veramente un tripudio per questo successo molto tecnico e avveniristico della scienza italiana ASET buono in pagella lo dicono i residenti è il sunto del report eseguito su un campione di 1500 utenze che hanno espresso dei giudizi favorevoli su tutti i servizi che l'ASET gestisce insomma un'azienda che si distingue per la sua serietà e per la sua capacità di risolvere anche problemi tecnici ci possono essere tanti giudizi contrari nei confronti dell'azienda magari perché quell'isola ecologica non viene pulita spesso oppure per quel cassonetto non viene vuotato regolarmente però nel complesso il giudizio dell'utenza fanese è favorevole a questa azienda azienda che è un patrimonio del nostro comune e qui abbiamo invece il messaggio di Natale del Vescovo Armando Trasarti Trasarti ai fedeli fanesi c'è bisogno di fiducia fiducia è una parola che ricorre correntemente in questo messaggio fiducia in tutti i sensi in un mondo molto travagliato in una realtà difficile in cui ci sono molti poveri molte famiglie fragili che non riescono ad arrivare alla fine del mese il Vescovo di Fano Cagli, Fossombrone e Pergola infonde fiducia dice che nessuno sarà abbandonato in fondo riporre un po' di speranza per un aiuto che proviene anche dall'alto fa bene all'anima fa bene al cuore Valmex il regalo di Natale stabilizzati 56 giovani ci sono aziende che in questo periodo danno gratifiche ai loro dipendenti in busta paga ma ci sono aziende che assicurano invece del contentino un futuro migliore cioè un'elargizione più a largo raggio in questo caso l'assunzione stabile che è il più bel regalo che un'azienda possa fare ai suoi dipendenti che magari aveva assunto in forma precaria l'azienda di Lucrezia di Cartoceto guidata da Severino Capodagli passa ora a 434 dipendenti assumendo 56 giovani in pianta stabile non è vero che i robot portano via lavoro cambia solo l'azienda è molto robotizzata è molto tecnicizzata però non può rinunciare alla forza lavoro umana è appunto quello che è stato deciso dal consiglio della stessa società dimostra come gli impiegati siano importanti per fare la differenza nuovo look al Bali arrivano 150 mila euro sono fondi che arrivano dal PNRR che sono destinati al museo verranno eseguiti lavori fuori e dentro previsti efficientamento energetico e maggiori comfort questi soldi verranno impiegati per rivisitare i locali dell'ingresso e di accoglienze e ristoro per ospitare un maggior numero di visitatori nonché migliorare la sostenibilità ambientale con interventi che saranno capaci di aumentare l'efficientamento energetico e diminuire la produzione di rifiuti infine sarà anche recuperata una parte dell'edificio storico mai restaurata dalla inaugurazione del museo ad oggi il balì comunque in occasione delle festività natalizie ha previsto anche aperture straordinarie nelle giornate del 27 28 e 29 dicembre e del 6 7 8 gennaio l'orario sarà dalle 15 alle 19 30 ultimo ingresso ore 17 30 la prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata al fine di assicurarsi la disponibilità dei posti per lo spettacolo del planetario che è veramente uno spettacolo da vedere e anche un bel regalo magari ai ragazzi in occasione del Natale vedere le stelle il cielo come non si può vedere in natura per l'inquinamento luminoso vediamo che a Urbino si insiste per trattenere la diocesi la diocesi che dovrebbe essere annullata secondo le decisioni del Vaticano e ora il consigliere comunale Michelli si rivolge addirittura al Papa chiediamo udienza al Papa dice Michelli il Vescovo di Pesaro non aspiri a entrare festosamente in Duomo a Urbino qui si compie un errore storico insomma c'è proprio una rivolta per trattenere la diocesi è importante per tutte le comunità avere un Vescovo proprio un pastore che possa così essere sempre presente per ogni necessità dei fedeli e purtroppo le soppressioni delle diocesi a causa anche dal scarsità dei ministri sacerdotali e poi anche dei Vescovi crea questi problemi purtroppo invece qua abbiamo una notizia buona non so se poi risponde a realtà ma speriamo che sia così vengono compiuti i passi avanti per la Fano Grosseto li annuncia il ministro delle infrastrutture Salvini il ministro annuncia che siamo finalmente arrivati alla conferenza dei servizi a pesare le pressioni fatte dalla Toscana guardate bene Salvini non chiama la Fano Grosseto Fano Grosseto la chiama Grosseto Fano e questo indica come incida di più molto le pressioni fatte dalla Toscana invece che quelle delle Marche le Marche sono anni che premono che chiedono appunto che questa arteria venga completata che la Galleria della Guinza venga appunto aperta in realtà le Marche non sono molto ascoltate la Toscana ovviamente conta molto molto di più chiamiamola pure Grosseto Fano ma che venga realizzata questa benedetta arteria tiriamo ancora la pagina e vediamo come a Cagli rimarrà il servizio di certificazioni per le patenti grazie anche al dottor Domenico Cannone che qui vediamo nella fotografia ad annunciarlo e il consigliere regionale Giacomo Rossi l'area vasta manterrà l'ufficio per la certificazione della patente grazie alla disponibilità appunto del dottore Cannone a Cagli si salva questo servizio sanitario sia per le patenti che per le licenze varie insomma è un successo almeno per questa comunità vediamo qualche notizia di Pesaro anzi la vediamo sulla pagina di Pesaro ma riferita ad Urbino la direttrice poi l'impiegato e la moglie sono tre personaggi vedate bene ecco ecco chi sono gli indagati dell'Accademia di Belle Arti all'Accademia di Belle Arti la Guardia di Finanza ha scoperto alcuni impiegati che facevano la vita al di fuori del posto di lavoro mentre in realtà figuravano che erano al loro posto di lavoro e quindi è una truffa in realtà tra virgolette perché è indagata la direttrice dell'Accademia perché avrebbe omesso di controllare il sistema di entrate e uscite fasulle e invece indagati è una coppia di Apecchio faceva una cosa di famiglia insomma lui era Antonio Pruscini capo ufficio amministrativo nel settore delle risorse del personale lei e Bidella Simona Bey sposati ambedue residenti ad Apecchio in questo caso spiegano gli inquirenti la copertura sugli orari fasulli era anche più semplice e diretta visto il legame che esisteva tra i due ovviamente era una complicità per così riuscire a fare le cose di famiglia senza poi fare quelle del lavoro otto indagati comunque nel complesso di cui sei impiegati due Bidelli cinque donne e tre uomini tutti dipendenti dell'Accademia tra amministrativi e non e dovranno rispondere di diversi reati truffa aggravata continuata falsa attestazione in servizio abuso d'ufficio frode informativa e accesso abusivo di un sistema informatico insomma una indagine che è accentrato nel segno in bilancio aiuti per affitti e bollette ora è un'emergenza assoluta il Comune di Pesaro ha approvato un documento con 150 mila euro destinati alle famiglie in difficoltà entro marzo partiremo con i bandi lo ha detto Andrea Nobili assessore al bilancio poi in quest'altra pagina abbiamo un blitz di fine anno in commissione per le nomine dei parchi regionali il centrodestra vuole pesare di più nel consiglio del parco San Bartolo vitri del partito democratico attacca Baiotti di Fratelli d'Italia rotto l'equilibrio e ridotta l'autonomia del consiglio una scelta che nasce solo dalla voglia del potere e qui abbiamo i due personaggi in contrasto l'uno con l'altro preso al confine uno dei nigeriani del parco era nella lista della operazione Centofiori ve la ricordate quella operazione che gli inquirenti avevano portato a termine individuando dieci spacciatori nigeriani all'interno del parco Miralfiori solo uno era fuggito ebbene un nigeriano di 21 anni che la squadra mobile di Pesaro aveva inserito nella lista delle persone da arrestare nell'ambito dell'operazione Centofiori ebbene proprio questo personaggio è stato individuato e arrestato proprio dalla polizia era espatriato in Francia aveva aspettato che si calmasse un po' la situazione ed ora pensando che non ci fosse più pericolo stava per rientrare in Italia ma al confine è stato bloccato ora ne mancano solo due identificato col nome del permesso di soggiorno questo è il numero della modalità che viene attuato per la conclusione di questa indagine casa famiglia la favola di Natale si parla della perla preziosa una bellissima funzionale istituzione che aiuta i poveri la perla preziosa deve allargarsi per accogliere più bambini e adesso tutti vogliono aiutarci ha detto sono sommersi di telefonate grazie anche all'evidenza che il giornale ha dato alla loro iniziativa e anche l'assessore Belloni ha venduto cappellini per raccogliere fondi e qua vediamo insomma l'assessore Belloni con l'assegno donato di quanti sono 9.000 mi sembra sì circa 10.000 euro poco meno di 10.000 euro donati alla perla preziosa la pizzeria sforna la busta paga più pesante un'altra azienda che gratifica i propri dipendenti si tratta Farina che fa il regalo di Natale a 20 dipendenti 500 euro in più in busca paga un aiuto meritatissimo ha detto il titolare e a questo punto abbiamo terminato l'esame del resto del Carlino e quindi possiamo aprire la pagina del Corriere Adriatico e qui vediamo una notizia che emerge dalla ultima riunione di Giunta Viale Alighieri messo in sicurezza con l'eliminazione dei parcheggi è stato approvato in Giunta il progetto presentato dall'assessore alla mobilità Barbara Brunori verranno tolti da un lato della strada i parcheggi per realizzarvi una pista ciclabile e poi dopo che la sperimentazione verrà verificata e verrà approvata successivamente dopo il mese di aprile questo è l'arco di tempo in cui è nato la sperimentazione verrà realizzato anche un marciapiede Viale Alighieri e la strada parallela Viale Adriatico a lungomare di Fano è una strada dove i parcheggi ancora sono liberi mentre in Viale Adriatico d'estate i parcheggi sono a pagamento quindi è una strada molto affollata col traffico intenso e vi passano anche i camion pesanti che riforniscono l'azienda Nucco Promo nel porto di Fano quindi è una strada abbastanza pericolosa deve essere messa in sicurezza e l'assessore Brunori sta cercando di attuare quei dispositivi per cercare di mettere soprattutto in sicurezza gli utenti più fragili quelli che vanno in bicicletta e i pedoni che al momento non sanno dove camminare perché le macchine parcheggiano a ridosso dei muri delle case e quindi i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla careggiata vediamo anche un'iniziativa del Lions Club che si è svolta ieri nella sala ipogea della Memo un poster per la pace premio alla passione mai come quest'anno il poster per la pace ha la sua attualità evidenzia la sua attualità dopo quanto sta accadendo in Ucraina ebbene il poster della pace ha coinvolto gli studenti delle tre scuole medie fanesi la Paddalino la Gandiglio e la Nuti si sono espressi veramente con tanta creatività e con tanto impegno e qui vediamo i nomi di chi è stato premiato sono stati comunque tanti i concorrenti che hanno partecipato a questo concorso creatività anche qui contro la povertà educativa un progetto che piace al garante dei diritti Giulianelli Giulianelli ha finanziato i laboratori dell'ambito territoriale sociale 6 partecipati da 180 minori sono queste iniziative che danno un po' di fiducia e di speranza per quanto riguarda l'aiuto a chi non si trova in buone condizioni economiche sacche personalizzate pieni di materiale didattico sotto gli abeti natalizi di 180 tra bambini e bambine ragazzi e ragazze che hanno partecipato al doposcuola organizzati dall'ambito territoriale e sociale numero 6 per loro un premio con matite colori quaderni giochi di piccole dimensioni natale 6 insieme è un progetto per il contrasto alla povertà educativa che è molto piaciuto al garante regionale che è stato presentato ieri in conferenza stampa dall'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti e dal sindaco Massimo Seri ed ora vediamo un'altra azienda che si fa l'abbiamo visto anche prima sul resto del Carlino che si rende benemerita si tratta della Valmex che stabilizza 56 lavoratori il numero dei dipendenti sale di 22 22 è l'aumento dell'organico di questa azienda che si è imposta in un mercato non certo facile ma che ha un panorama di operatività internazionale il produttore di Lucrezia di scambiatori di calore adesso punta ai mercati di Stati Uniti e Cina addirittura quindi mercati veramente interessanti Serra Santabondio pubblica un bando per sostenere le attività il sindaco Caverni ci hanno detto che a gennaio arriveranno 200 milioni speriamo che sia vero l'attesa riapertura della strada per Fonte Avellana l'incontro in regione di tutti i sindaci dei territori colpiti dall'alluvione i contributi alle attività sono le prime risorse arrivate si intravede la luce seppur le difficoltà rimangono tante a fare il punto della situazione è il sindaco Ludovico Caverni interessante leggere quest'articolo specialmente se uno è residente nell'entroterra e pasiamo anche a Senigallia dove vediamo che c'è stato un accordo tra il summer e gli albergatori soldi in cambio di spazio sul portale un portale che fa promozione turistica il patto per avviare una convenzione commerciale Manfredi noi siamo pronti a collaborare ebbene ci sarà anche il contributo economico degli albergatori per il summer Gembury dalla prossima edizione nei giorni scorsi gli organizzatori annunciando la nuova data hanno spiegato che stavano lavorando per coinvolgere chiedendone il sostegno varie realtà tra cui per la prima volta gli albergatori albergatori che sono uno dei diretti beneficiari di tutta la gente che affluisce a Senigallia in occasione del summer Gembury che è la manifestazione di spicco una delle manifestazioni di spicco di tutta la regione Marche ed ora apriamo anche la pagina pesarese del Corriere Adriatico dove vediamo che la seduta del Consiglio Comunale l'ultima dell'anno che si è svolta ieri a Pesaro ha approvato il bilancio di previsione tasse niente aumenti il gap bollette sarà coperto dai costi per costruire ovvero dagli oneri di urbanizzazione oneri di urbanizzazione che costituiscono un piccolo tesoretto di entrate per l'amministrazione comunale alle quali si farà a fondo per coprire i costi dell'aumento dei costi delle bollette la luce il gas il riscaldamento di tutto quello che comporta un complesso di edifici dell'amministrazione comunale comunque è importante che le tasse non aumenteranno perché sono già alte già stanziati 150.000 euro per l'emergenza abitativa patto comune sindacati la prima mossa è per il fondo anticrisi anche qui un aiuto di carattere solidale tra nove giorni il riassetto sanitario all'asta arriverà un commissario tra nove giorni esattamente il primo gennaio cambierà da Marche Nord dall'azienda sanitaria si passerà all'azienda sanitaria territoriale la nuova azienda assorbirà servizi e personale di area vasta 1 e di Marche Nord non ci sarà più l'azienda ospedaliera ma un'azienda che unirà sia l'ospedale che il territorio sono rinviate poi le scelte perché ci sono molti molti addempimenti ancora da fare ma intanto tra otto giorni si comincia ebbene a causa del ritardo però della pubblicazione dell'albo nazionale dei soggetti abilitati alla direzione delle aziende sanitarie i direttori generali delle aste dovranno così cedere il passo a un commissario che gestirà la questione per i primi tempi insomma ancora si agisce in forma precaria torna Ciao Rudy Ciao Rudy è un bellissimo torneo di basket assista agli albergatori e il turismo sportivo fa riaprire gli hotel tra il 27 e il 29 attesi 1500 tra giovani cestisti e famiglie per il torneo organizzato da mainieri ebbene mentre Pesaro si dedica al basket Fano si dedica al volley e sono importanti queste iniziative che si svolgono subito dopo Natale per rivitalizzare l'accoglienza alberghiera accoglienza che nel mese di dicembre stava veramente languendo dato che il caro vita l'aumento delle bollette e forse anche qualche propensione di spostarsi aveva un po' ridotto anzi aveva ridotto senza un po' le presenze turistiche nel nostro territorio siamo in fase di conclusione voglio solo segnalarvi ancora una volta questo dibattito tra la consigliera regionale Vitri e Baiocchi di Fratelli d'Italia sul San Bartolo alla regione tre consiglieri uno scontro sul CDA che è stato ampliato era l'ultima notizia a questo punto chiudiamo i giornali vi do come sempre appuntamento a domani alle 7 e per le notizie del giorno alle ore 20-30 di questa sera con Occhio alla notizia il Tg di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti